Grazie. 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 Io sono Leonardo Tomei, abbiamo iniziato in questo momento il commento del tavolo televisivo dell'OMA e andiamo a conoscere intanto i giocatori presenti in questo tavolo televisivo. Grazie. Grazie a tutti. 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 porta frutti e si porta a casa questi bei due bui e mezzo, ricordiamo 6.12. Chiude in questo momento Pasquale Vinci il count di questo tavolo televisivo con 9 big blind, ovvero con 118 mila, ancora Ullo il Cip Leader con 425 mila, ovviamente iniziato da veramente poco il tavolo televisivo, si saranno giocate forse quattro mani. Nuova distribuzione, per gli amanti dell'OMA naturalmente, vedere un tavolo televisivo ma qui a Casino Perla è sempre un piacere, abbiamo riscosso un po' di feedback naturalmente come sempre positivi per quello che è uno degli appuntamenti più seguiti ormai dei giocatori dell'OMA, dai appassionati e da chi piano piano si sta anche avvicinando a questa specialità che è fantastica, molto molto più tecnica dell'Holdem, un calcolo del gioco completamente diverso dall'Holdem dove ci sono solamente due carte, quindi questo torneo di OMA non a caso prende sempre piede, non a caso si fa sempre degli ottimi seguiti e piano piano sta appunto facendo scoprire anche a ragazzi nuovi del circuito, anche la voglia di fare questo torneo, di giocare questa variante che appunto apre ancora di più la mente a possibili scenari pre-flop, post-flop sicuramente si gioca con punti nettamente più forti dell'Holdem. In questo caso vediamo Hullo con Assojack 7-5, anche Trojanauskas ha Assojack ma ha 10-5, 4 neri per Hullo, 4 rossi per Trojanauskas, David ha Big Blind, Asso 10-9-6 con due cuori fantastici, Proasca nel mezzo con 6-5-3-2, quindi c'è una possibilità di gioco di carte basse che non esce a flop. Donna-Donna 7 al flop, nessuno alla donna, quindi in questo momento credo che Hullo sia in buona posizione con Assojack, sono entrambi Hullo e Trojanauskas in gioco, credo che Proasca mollerà la presa, con Hullo che però ha il drodicolore che si chiude in questo momento con l'8 di fiori, quindi Jack 5 di fiori, per Hullo che fondamentalmente non lui non lo sa ma è già al 100% di vittoria del piatto, naturalmente bisogna stare attenti a eventuali full, eventuali raddoppi di board, quindi non lo sa Hullo ma è buono in questo momento, si rimane in 3 al turn, ancora giro di check, ci pensa Hullo, deve fare 25.000 per fare i call, e invece passa con colore, nelle mossa di Proasca che metta 25.000 con il nulla cosmico, fantastica mano di Proasca che con 6 alta si porta a casa un piattino importante, bravissimo, fa passare il chip leader nel tavolo un colore, colore chiuso, ecco questa dicevamo è la bellezza dell'omano, fa passare colore al chip leader del tavolo e portarsi a casa un piatto in perfetto blef con 6 alta, senza possibilità di fare colore con un progettino di scala, arrivare con un 4 o con un 9 insomma in bilaterale, insomma grande mossa di Proasca che si porta a 387.000 chip, e adesso in chip è a ridosso proprio di Christophe Girard che è a 3,94 quindi che ha meno di un buio dalla seconda posizione per Proasca, bozzato da UTG in questo 6.000-12.000 passa, e Girard doppia coppia, KK2-2, con K2 di picche e K2 di quadri e 2 di cuori, quindi coppia di K importante per Christophe Girard, credo che deciderà per il race, molto probabilmente. Sì, va a race 50.000, Proasca Fold, e trova Trojanavskas con gli assi. Asso, asso, donna 2 per Trojanavskas, quindi già subito una mano, eccolo lì, Trojanavskas va in all-in per 168.000, Stenberger, a cui non vediamo le carte, Folda, Ullo, Folda, Credo che Ullo abbia Foldato, penso di sì, donna 10-7-3, credo, e non ci sia proprio possibilità di chiamare, infatti passa, e Davide, anche egli con la coppia 10-10-4-2, decide di Foldare. Pasquale vinci da ultimo, K-Jack 5-4, da Big Blind, ha passato anche egli, e la palla torna a Christophe Girard, che con i K, deve decidere se mettere questi 10 blind, alla fine va di call, e quindi ci vediamo subito, questo all-in e call tra Christophe Girard e Trojanavskas, asso, asso, donna 2 per Trojanavskas, K-K 2-2 per Christophe Girard, vediamo il flop, e c'è questo K, ultimo K, perché un K l'ha passato anche Vinci, quindi il mono out per Girard, 8 di Fiori, andiamo a vedere il river, che è un 8 di Cuori, quindi full per Girard, che elimina in ottava posizione, il nostro amico, Daurio Trojanavskas, che esce in ottava piazza, e quindi, primo eliminato di questo tavolo televisivo, sfortunato, perché comunque i due erano finiti, il K ne era rimasto uno solo, esce proprio il K di Cuori, un K fantastico per Christophe Girard, che appunto elimina il giocatore Trojanavskas, e si porta anche in testa al chip count totale, con 580 mila, e poi sono ancora 6.000-12.000, ottava posizione per Daurio Trojanavskas, e si rimane in 7. Subito, prima eliminazione, subito, nei primi dieci minuti di gioco, la prima emozione, in questo, omamen, vi ricordo sempre, di seguirci, sui canali social, sulla pagina, YouTube di Poker Italia TV, su tutti, i social, su Instagram, su Facebook, Italian Series of Poker, o Poker Factor TV, seguiteci dove potete naturalmente anche commentare e seguire le varie dirette durante la giornata, i tavoli televisivi come in questo caso, e naturalmente tutti i lanci di giornata e tutti i commenti, le foto che vi diamo in ordine di tempo, per seguire questa seconda tappa della nuova stagione di ESOP Championship 2021-2022, vi ricordo, visto che sono qui a ricordarvi le cose, che la prossima tappa ci sarà, sempre qui, Casino Perla, 17-21 marzo, non mancate, vi ho già spoilerato la prossima data, mi raccomando, segnate la vala sul calendario, venite, chissà, anche voi, che ci state seguendo, qui, seguire questo tavolo televisivo, dove lo ha, venite a giocare un bel torneo di Oman, dove il buy-in è 300, dove c'è appunto la possibilità di portarsi a casa una prima moneta importante, e non solo, il trofeo ambitissimo qui delle ESOP, la possibilità di scalare una classifica, per giocare chissà tornei più importanti, e quindi venite, venite, seguiteci naturalmente, e venite a vedere cosa succederà. Tra gli appuntamenti di domani, perché noi naturalmente stiamo commentando un tavolo televisivo di Oman, ma naturalmente quest'oggi si è giocato anche il main event, il Day 1B si è chiuso, come al solito, alle due di notte, ci sono stati tanti, tanti giocatori che hanno passato il taglio, sono sopravvissuti a questo fantastico Day 1B, che si aggiungono ai tantissimi giocatori che invece si sono qualificati ieri per il Day 1A, domani Day 1C naturalmente, vi aspetta un Day 1C ancora ricco di giocatori e di action ai tavoli, quindi insomma potete ancora raggiungerci qui al Casino Perla di Novagoriz, in quella della Slovenia, dove anche il tempo ci sta aiutando, non ci aspettavamo un freddo cane, invece no, si sta benissimo, temperatura mite, sole, non dico caldo, ma comunque si sta bene per il 6 gennaio, venite a giocare, venite a seguirci, perché comunque abbiamo ancora la possibilità di giocare questo main event, domani ci saranno anche i side, c'è un torneo fantastico, da 500 All Stars Poker, torneo ambitissimo, nuovo format, quindi insomma tanta 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 carne al fuoco, nel frattempo ritorniamo al tavolo, perché c'è Vinci, unico giocatore di 3 al quale riusciamo a vedere le carte, che è in bilaterale, con Donna Jack 9,5, su flop 7,10k, una donna jack importante, le carte di bozzato, le carte di hullo, non riusciamo a vederle, ma insomma vediamo che cosa succede, nel frattempo Vinci ci pensa, fa check, bozzato, passa, e al river, eccolo là, il 9 che aiuta, Vinci, aveva già scala, perché era uscito Jack Alton, quindi va in all in, Vinci, con il second nuts, pergando di non trovare, naturalmente, asso donna, l'all in di Vinci, è veramente piccolino, ma fold da parte di hullo, e quindi Vinci, si porta a casa un piattino, con una scala, e risale in penultima posizione, lasciando adesso il nostro amico, Claude, o Claudio Davi, in ultima posizione, con 141.000 cip, ovvero 11 big blind, ancora 6.12 il buio, abbiamo parlato di questo main event, si sono qualificati, sia a memoria, giocatori del calibro di Claudio Di Giacomo, Massimo Basto, a Tonino Calabro, che se non sbaglio, è secondo in cip, in questo dei 1b, Roberto Roberti, anche gli ottima performance, Eugenio Cuppellini, di nuovo, qualificato al dei 2, con l'ultima mano, proprio l'ultima, l'ultima, dove perde, KK 10-10, con un 10 a river dell'avversario, che toglie, credo, la totale leading, da chip leader, perché rischiava di salire sopra i 300, con col piatto, è chiuso a 140 o 160, si sono qualificati anche Giorgio Silvestrisin, il nostro amico Jack, Ravaioli, insomma, tanta tanta gente, Giuseppe Tedeschi, Andrea Iocco, Michele Munera, tutti qualificati, questo dei 2, Aldo Addario, anche egli, un pochino sfortunato, nelle ultime 2 mani, dove trova, in tutte e 2 le mani, lui con la sua donna, e perde contro, due volte, una coppia di carte, più bassa, mi sembra, una Jack 8, un'altra Jack 10, insomma, due mani un po' sfortunate, per Aldo Addario, che, lo fanno accorciare, nel, nel dei 2 di domenica, ci sono state, c'è Vincenzo Mazza, che è passato, così a memoria, non ricordo, tutti i 40, dei giocatori, che hanno, passato il taglio, ultima mano, mi sembra fatale, per Nicola Naclerio, che invece, esce, se non all'ultima, alla penultima mano, di giornata, era corto, ma ha provato a spingere, ed è uscito al tavolo, dove poi, Antonino Calabro, ha chiuso, naturalmente, il cipi leader, del tavolo, e credo, secondo in cipi totale, andiamo, di nuovo, a vedere l'action al tavolo, con Pasquale Vinci, che ha, tributato, 130 mila, con gli assoni, asso, asso 7-3, per Vinci, su una race, di Ullo, con, asso donna 7-6, e con, il call, di, Bozzato, che poi, adesso si arrende, quindi, no, scusate, sì, Bozzato si arrende, con donna, jack 4-2, ritorna, la palla, a Ullo, che, deve, difendere, o meno, decidere, di difendere, o meno, il suo, race, a 32, preflop, andiamo, un attimo, di, blocco, da parte, della regia, che è ritornato, con la telecamera, ha, Bozzato, che però, non vediamo, le carte, di Bozzato, quindi, non credo, che lui, sia in gioco, credo, che abbia, passato, e nel frattempo, in cui, decidiamo, che cosa, succederà, al nostro, Ullo, che, invece, decide, di passare, esattamente, quindi, passa, quindi, Vinci, si porta a casa, un piatto, un contested, noi, andiamo avanti, e, andiamo avanti, e, vi, annunciamo, in questo istante, l'arrivo, di un, non solo un caro amico, ma, di un giocatore, che abbiamo, anche intervistato, quest'oggi, in una, delle nostre dirette, siamo, in compagnia, di, Antonello Guido, ciao Antonello, come va? Ciao Leonardo, benissimo, bello, 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 peccato, essere uscito dal torneo, ah, siamo, si, ti abbiamo visto, giocare, una mano, un po' di male, insomma, il tuo gioco aggressivo, in quel, dell'Oma, è ancora ben definito, eh, fantastico, bello, l'Oma, bello, ma, siamo andati a, vedete, insomma, ti abbiamo visto un pochino, ai tavoli, delle mani importanti, una mano molto grande, con Claudio Di Giacomo, inizio, il quarto, quinto livello, dove, Claudio, setta, i nove, tu hai, te lo tricolore, top air, insomma, poi naturalmente, non esce, come si dice, esatto, non ne esce mai una, allora, intanto, vediamo qui, ah, Vinci, praticamente, con Asso Asso, ha trovato il call, alla fine, di Ullo, e quindi, abbiamo ristabilito, un pochino, quello che la grafica ci ha aiutato, quindi, double up per Pasquale Vinci, che si porta a 326 mila, vedete come, questo gioco è fantastico, era ultimo in chip, praticamente morto, e adesso si ritrova, terzo in chip, con questo, fantastico, tris di assi, era già, nettamente sopra, preflop, Asso Asso 7.3, contro Asso Donna 7.6, in questo momento, Cristofo Girard, che ha eliminato, in ottava posizione, Trojanowska, se è primo in chip, con 568 mila, Pro Aska 3.87, Vinci 3.26, 2.90 per Stenberger, 2.46 per Bozzato, 2.23 per Ullo, chiude Claude Davy, a 141 mila, che comunque, sono ancora 11 BB, che in, all'inizio non è male male, allora, infatti era proprio questo, che volevo dirti, la struttura, veramente, veramente interessante, veramente bella, piacevole, consiglio davvero il torneo, perché, credimi, è veramente una formula interessante. Bene, ne abbiamo parlato, ne ho parlato all'inizio, della cronaca qui, si parlava proprio, di questa bontà, della struttura, naturalmente, le macchie riso, ma non stiamo sempre a dire le stesse cose, ma della struttura, una struttura giocabilissima, una struttura che ti fa divertire, che fa divertire i giocatori di Roma, e che fa avvicinare, ogni volta, giocatori nuovi. naturalmente, io, lo ridico, adesso in tua presenza, lo consiglio, perché, secondo me, migliora anche il gioco nell'holdem, perché la, sono d'accordo, la tensione, che bisogna mettere, perlo, ma naturalmente, poi ti porta a, naturalmente, a giocare poi diversamente nell'holdem. Antonello, raccontaci un pochino, la tua carriera, pokeristica, tu vieni dall'holdem, ti sei specializzato nel cash game, e, da quant'è che giochi Omaa? Ma, guarda, io ho conosciuto l'Omaa, così per caso, nel senso, ero curioso di studiarmi qualche variante, ho visto l'Omaa, e mi ha affascinato, ho detto, ma perché non provare a giocare a quattro carte? Ho sempre odiato, paradossalmente, il poker a cinque carte. Ok. Cosa che ti potrebbe sembrare strano. E ho trovato, nel l'Omaa, veramente un, più che altro, è per le dinamiche che si creano dell'Omaa. Cioè, mi piacciono le dinamiche che si creano, un po' quel, quel calcolo in più, quella strategia in più. Poi, è chiaro che il pizzico di fortuna, nell'Omaa, con tante carte, perché fondamentalmente, è come giocare con cinque, più quattro, più quattro, più cinque, cioè, nel senso, è un mazzo infinito, se ci pensi. però credo che è una variante che ormai piace a molti. Beh, allora, in America, si gioca più, quasi più Omaa, che Oldham. L'Oldham è un, è il gioco facilitato, diciamo. se vuoi giocare a poker, se vuoi studiare, vuoi imparare, devi conoscere bene l'Omaa. Abbiamo, ti abbiamo visto giocare, cash game Omaa, ancora più aggressivo, la tipologia di gioco, e, naturalmente, ne parlavamo anche oggi, nella diretta che abbiamo fatto, tu prediligi il cash game, che è il torneo, ma comunque, un torneo, con un buy-in da 300, dove, insomma, il primo si porta a casa, 4.000, 5.000, 3.500, insomma, non è male, non è male, nel frattempo è aumentato il buio, 10.000, 20.000, siamo ancora, con più di 300.000, di average, quindi, insomma, giocabilissimo, prossimo evento, qui al Casino Pella di Nova Gorizza, con le ISOP, 17-21 marzo, pensi, ci sarò, ci sarò, farò in modo di esserci, perché mi sono trovato davvero bene, con i ragazzi, con te, con tutto lo staff, e quindi, perché dire, qualcosa che non sia vero, ne vale la pena, lo consiglio, e sicuramente farò in modo di portare, un po' di persone, bene, bene, la pubblicità migliore, è quella, proprio del, del passaparola, di chi è rimasto soddisfatto, allora, vediamo un po', di fare, un po' di, proprio di, commento tecnico, ti do subito, un avvertimento, non sempre, riusciamo a vedere, le carte dei giocatori, perché, sistemare quattro carte, nel posto, che è, proprio destinato, alla, alla visione, per noi, capisco, che non è semplice, nemmeno per i giocatori, non è semplice, poi i giocatori, sono anche un po' stanchi, quindi, non sempre, vedono carte, vedono magari, quattro carte brutte, passano, ecco, Stefano Bozzato, in questo, non ci aiuta tantissimo, le sue carte, non riusciamo a vederle, quasi mai, comunque, adesso, si prende, un pochino di fish, e decide, per il race, ricordo che il buio è 10-20, andiamo a contare, insieme al dealer, quant'è? magari proviamo a giocare, con le carte di Stefano, ah, così, senza, senza saperlo, non è male, qualcuno lo faceva qualche anno fa, ci si prova, allora, c'è il race, 45 di Bozzato, Girard passa, Proasca, con Assojack 97, decide di andare al call, e Stenberger, da Big Blind, con 17-64, passa, quindi, Manu e Zap, e vediamo, Proasca sappiamo le carte, Bozzato no, Bozzato è andato in race, da, Catoff, Assojack 97, per Proasca, e il flop, recita, 2k8, quindi, niente di niente, proprio, assolutamente, per Proasca, che va subito, in check, immediato, e Stefano Bozzato, strano che non ne ha presa nemmeno, non ne ha presa nemmeno, ne ha presa nemmeno, ne ne ha presa nemmeno, niente, quindi, così, a occhio, forse, Bozzato, qualcosina, ce l'ha, vediamo un po', ma va anche lui, di check, ci vediamo un Tarn, 4 di cuori, doppio, draw, cuori e quadri, naturalmente, Proasca ha fiori e picche, e chiaramente, e chiaramente, va in bet, 55.000, il, vediamo, questa value bet, di Proasca, 55.000, con il nulla, cosi, un Mico prima ha preso una mano, con 6 carta alta, facendo passare, al Tarn, un colore chiuso, da parte del chip leader, wow, con board accoppiato, colore chiuso, jack 5, su board 2, 8, 2 donna, 8, con 3 fiori, il chip leader aveva jack 5, e Proasca aveva tipo, 6, 5, 3, 2, io ci ho giocato, ci ho giocato con Proasca, è veramente in gamba, eh ma sono, sono giocatoriero, un'ottima persona, anche devo dire, al tavolo è piacevole, ah ok, bene bene, è importante anche questa cosa, donna di fiori, alla riva e Proasca, non ne ha, mezza, niente, betta, 65, Tarn, vediamo Stefano Pozzato, al quale ancora, chiederemo poi, dalla regia, di vedere carte, freccia in su, per Pozzato, facile call, immagino, non c'è nulla, non si è chiuso nulla, non c'è nulla, vai no line, 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 e a questo punto Proasca, è anche un bel piatto, è un bel bel piatto, all'incirca 431 mila, un po' di scena, classica, certo, ha, ha bettato, Tarn, ha bettato River, poi diceva, questo te lo la, non aveva nulla, a sua alta, naturalmente, bel piattino, per Stefano Bozzato, che si porta a casa, un pot, importante, il dealer si è dimenticato, una 10 mila, che adesso, gli verrà consegnata, eccola lì, e allora, 10,20, i bui, ricordiamo, in questo momento, Christophe Girard, 5,58, e Stefano Bozzato, con questo piatto, si porta, secondo in chip, 431 mila, 3,56, per Pasquale Vinci, Stenberger, 2,70, Antonino Ullo, 2,23, Proasca, 202, e Claude David, ancora, ultimo in chip, a 141 mila, che poi, se vedi, su 141, ha quasi tre volte, lo stacchi iniziale, quindi, ti dimostra, ancora una volta, che la struttura, è bella, rigida, solida, sulla quale, ci si può, divertire, sì, assolutamente, assolutamente, domani, giocherai, il main event, domani, giocherò, il main event, oggi, l'ho giocato, non è andata bene, ok, è un tavolo, abbastanza, difficile, devo ammetterlo, e non è andata bene, l'holdem è così, soprattutto, il non limit, sì, ti ho visto, giocare un po' di mani, e ho visto che oggi, non ne hai presa mezza, al torneo, nulla, niente, a su k, scendeva a 7, 8 e 2, coppietta di 5, usciva a k, a k, donna, sì, è un, è così, insomma, quando c'è poco margine, non è, non è facile, nell'holdem, soprattutto, se poi trovi un tavolo, bello aggressivo, dove ti, ti spingono, a, più che altro, i piatti, come sai, con uno stack, perché, ricordiamo lo stack, quanto è lo stack, del, del main, partendo con 40, un bello stack, penso che sia 50, o avendo qualche dubbio, però penso sia, o 40, e 50, e 50, e 50, quindi una bella, bella struttura, però chiaramente, spinge molto il giocatore, essendo così deep, a fare, dei piatti, veramente, veramente, grandi, già dai primi livelli, ed è un vantaggio, uno svantaggio, nello stesso tempo, bene, quindi domani, ti schiererai, in questo, dei Uloci, mi rischiererò, rischiererò, facciamo, un po' di, così, no, un po' di chiacchiera, da salotto, no, parliamo anche un pochino, Antonello, di questa, di questo casino perla, che offre, io lo dico, spesso, le frattempo scusami, perché flop è, Asso Jack, e Christophe Girard, ha Asso Jack 9,7, le carte di Steinberger, non lo vediamo, le carte di Hullo, non le vediamo, le carte di Davy, non le vediamo, ma credo che, insomma, più di Asso Jack, non, credo che ci sia solo possibilità di split, e, insomma, vediamo un po' questa mano, e poi, ritorniamo, ritorniamo, al commento, allora, Asso Jack, da parte di Christophe Girard, che, naturalmente, credo che prenda il piatto, abbastanza easy, si, 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 vediamo un attimo, è chiaro che con Asso Fante, con due cuori, i progetti sono tanti, quindi, secondo me, l'azione si spingerà fino a River, soprattutto nell'U, ma, adesso, minimo, se uscire, è uscito cuori, quindi, secondo me, si arriva a River, facile, facile, Davi è andato in, all in, credo a questo punto, con, con un Asso, è infatti, Asso K, donna 5, per Claude Davi, Asso Jack, per, quasi, per, scala contro, Girard, quindi, scala contro, scala Tris, contro, full chiuso a flop, quindi, c'è, in noi, l'eliminazione, di, Claude Davi, che, perde, con, Asso K, contro, il, full, di, Christophe Girard, che, si porta, ancora, più in alto, nel, chip count, e, allora, noi, facciamo, una, piccolissima, piccolissima, pausa, a, di, Grazie. 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 Assolutamente. E' chiaro che è una bella struttura completa con lati positivi e lati negativi. Purtroppo il Covid ha spostato tutti gli equilibri. Però la SPA è bellissima, la struttura è molto molto carina. Io era dal 2015 che non tornavo. Sei anni, sei, sette anni, non sono poi così pochi. Non hai visto per esempio perché non hai avuto la possibilità di vedere la piscina di acqua riscaldata a cielo aperto che hanno messo nella loro skyline ma c'è quindi questa piscina di acqua calda quindi dove si può entrare anche in pieno inverno farsi un bel bagno caldo e poi magari entrare direttamente in sauna o in un bagno turco o a farsi un bel massaggio quindi relax totale Sì sì in effetti la struttura risponde bene alle esigenze è chiaro che è una struttura prettamente ideata per l'intrattenimento adulto è chiaro che il casino la struttura da gioco le fa da padrona E' anche bello che chi come me come tu sai anche amo notare i dettagli mi piace vedere le camere mi piace spendere Qualcosina in più quando è possibile ma avere un ottimo servizio Bene bene Il ristorante la colazione tutta la struttura proprio nel Ricordiamo bravissimo colazione internazionale italiana è molto ricca all'interno del mediterraneo che è il ristorante centrale C'è il Calypso che è un altro ristorante dove c'è base di pesce insomma il ristorantino quello Che ancora ancora io devo provare Che ancora devi provare Te lo consiglio il Calypso naturalmente poi c'è il ristorante all'interno del casino dove c'è il buffet Quindi tre ristoranti svariati in bar nei punti strategici di gioco C'è questa diciamo tra virgolette novità del self service gratuito di bevande per i giocatori Quindi acqua, coca cola e quant'altro gratuitamente Totalmente in sicurezza Totalmente in sicurezza Bicchieri monouso Assolutamente Quindi insomma Perché non venire al casino per la Non solo Perché no Esatto Perché no Non solo dal 17 al 21 marzo Ma Attenzione Attenzione Tete la freccia Salite su A Nova Corica Bravissimo Attenzione Attenzione Vi devo spoilerare Perché oggi sono di spoiler Quindi una cosa ancora più bella Perché voi giocatori di poker ci seguite naturalmente anche per quello che vi sto dicendo adesso Perché a maggio, ragazzi belli, di solito che cosa succede? Ci sono i campionati italiani Campionati italiani di poker Ormai un marchio che viaggia da oltre un decennio Ed è bello dire questa cosa Oltre un decennio Campionati italiani di poker Che si giocheranno le ultime due settimane di maggio Wow E guarda caso Siccome si chiude di lunedì Il classico lunedì Lunedì 31 maggio Si chiuderanno questi campionati italiani Quindi dal 17 Credo Dal 20 al 31 Insomma le date precise Il nostro Ottimo patrón Gian Giamaghelli Ce li dirà Proprio breve Ma comunque le ultime due settimane di maggio Andranno in onda In scena Qui al Casino Perla di Nuova Gorizza Tutti al Perla I campionati italiani 21 Bracciali 21 campioni italiani Di solito Naturalmente non vi voglio dare troppe notizie Che poi magari verrò smentito Ma comunque insomma Ci saranno Tornei di Oma Tornei di Holdem Ci sarà La sezione Per Interforze Per i giornalisti Per Insomma Abbiamo fatto negli anni Io ormai sono Sette anni Anzi 2022 Otto anni Che racconto A momenti Certe volte più In focus Certe volte meno Rispetto naturalmente Ai miei impegni Extralavorativi Vi racconto Quella Che di Isop Ormai è Un Marchio registrato Ma non solo Proprio per il marchio registrato Ma proprio per la Tranquillità Di dire Italian Sears of Poker E quindi Li abbiamo visti Di tutti i colori E ne vedremo Ancora Di tutti i colori Campionati italiani Con main event Da 9,90 Torneo Ragazzi No Non vi dico Quanto è giocabile Il 9,90 Perché non ci credereste Ha vinto Negli anni Salvatore Bonavena David Bravin Meoni Rigio Un bel monte premi Con un ottimo monte premi Con una giocabilità assurda E quindi insomma Ultime due settimane di maggio Venite qui al Casino Perla di Nova Goriza Prenotate Sulla nostra mail support Chiocciola Isop.it Insomma Potete Venire Dovete venire Dovete visitare Il Casino Perla Dovete giocare Eventi Isop Perché Siamo qui In diretta Alle ore 3.41 A raccontarvi Un torneo di Omaha Che Sta ancora Si sta giocando Nelle fasi più calde Sono rimasti in 6 Sì E quindi Dovete venire Dovete 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 Venire Avete 5.000 Motivi Per venire Allora Vinci sta vedendo un po' di carte Era ultimo in chip Il nome è un Deve vincere Vinci vincerà Adesso ha Asso K14 E le carte di bozzato Noi stiamo quasi perdendo Le speranze Nel vederle Ma Cristofre Girard Ne sta vedendo meglio di Vinci Vi ricordo che prima Il primo eliminato Ovvero Trojan Auskals Ha perso contro Cristofre Girard Con Asso KK Con l'ultimo K Al flop Perché un giocatore Aveva passato K Jack Quindi sono andati In alline preflop Cristofre Girard Con KK2-2 Dove i due non c'erano Perché l'avversario Aveva Asso Asso Donna 2 E un altro giocatore Aveva un 2 Quindi i due non c'erano Un altro giocatore Aveva passato il K Quindi mono out Preso Cristofre Girard Adesso ha eliminato Anche Klud Da Viccon Di nuovo gli assi E adesso ha KK75 Sul call di Vinci A 20.000 C'è il Race Di Girard A 120.000 Ullo Al quale Potrebbe essere interessante Questa mano Sì Ce la studiamo insieme Vediamo Perché credo che Bozzato Vediamo se riusciamo A vedere le carte Di Bozzato Sono entrambi un doppio ritrovo Quindi sono delle mani Assolutamente interessante Sì Io preferisco girare Tutta la vita Vabbè Certo KK75 Però come ti ho detto È in grado di foldare Vinci Non si Ha passato Non si innamora Delle carte Non si innamora assolutamente Delle carte Anzi Anzi È un attendista È una Persona Molto 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 Precisa Bene Bozzato È rimasto da solo Le carte di Bozzato Sono sette mani Che non Niente Non ne vediamo Non ne vediamo O magari lo fa Per farci giocare a noi Ci sta pensando Ma con cosa Beh magari Con Fante 10 8 8 Fante 10 9 9 Potrebbe Darsi Potrebbe Insomma Certo Un atribetto 120 Di girate Che è già Chip leader Riesce a passare Però Bozzato Metterà Le sue 100 Mila Che non sono poche Bozzato ha Adesso in dotazione 391 Mila Quindi Mettendo 100 Preflop Significa Quasi Quasi Commitarsi Quasi E poi Sono 10 20 Ricordiamo Potrebbe Andare a pesca Vediamo Un po' Beh Sicuramente Non Non credo Che parta Sopra Ora adesso La scena Di asso Asso Non ce l'ha Credo che passi Alla fine Se lo guarda E folda Girard Prende Un piatto Un contested Senza Vedersi Flop E Girard 780 Mila Vola Vola Nel count Doppia Proprio Stefano Bozzato Che è a 391 Quindi esattamente Il doppio Di Bozzato Quindi Quasi 40 Boy Per Girard Vinci A 326 Proasca 262 Stenberger A 2 E 50 Adesso Ultimo In questo Count È Antonino Ullo Con Otto Big Blind Ovvero 173 Mila Cip E poi Sono 10 20 Come Vivi Anche Antonello Questa Differenza Nell'Omada Dove Non c'è Lante Mentre Nell'Older Ormai Abbiamo Si gioca Solamente Big Blind Ante Botton Ante Già dal primo Livello Quindi Già dal primo Livello Sei costretto A No E quindi Come Vedi Questa differenza Di Mancanza Di Ante Nell'Omada Guarda Ripeto Io Diciamo che prediligo Il cash Aumentare Il pot Di qualsiasi Genere Messo sia Quindi Già a partire Dall'ante Che sembra Molti lo sottovalutano Ma Nel conto Totale Lante Fa E Si Che fa Crea una differenza Sostanziale Anche Da questo punto Di vista Nell'Omada Non c'è Ma non è detto Che lo si possa Inserire Dipende tutto Dalla struttura Del torneo E' chiaro Che Ha poco senso I tornei pot Limit Hanno una gestione Nettamente Hanno una gestione Nettamente Diversa Il non limite Tra virgolette Molto più semplice Da gestire Quindi Aumentare i piatti Crei Action E le action Creano movimento Di fish Certo L'Oma E' nettamente Diverso Ti dirò Di più Nell'Eator Better O nell'Ilo C'è la stessa cosa C'è un sacco Di movimento Di chips Però è nettamente Inferiore Del non limite Quindi è fondamentale Conoscere bene Il gioco Qui c'è una mano Interessante Asso Asso 8-5 Per Proasca Che sposta Una pila Da una 3-bet Importante Su Sempre race Di Bozzato Senza carte 3-bet A 156.000 Di Proasca Bozzato Continua A farci vedere Le sue carte In nero Vuole Che dobbiamo Giocare con le sue In questo caso Lo vedo un po' Titubante Quindi non credo Che passerà All'azione Non so se è uno Sguardo di titubanza Di stanchezza Ma credo che non Passerà All'azione Prozac Prozacca A Asso Asso 5-8 Sì Con 3 cuori Quasi double suited Quindi Molto Molto Interessante Questo è un range Di mani Non facile Da trovare È una mano Che 7 volte Su 10 Porta a casa Il piatto E 7 volte Su 10 Non è poco In un gioco Così Con questa Vastità Di combinazioni Assolutamente Assolutamente Però Viene Sta Sta Bozzato Sta dicendo Ma è possibile Che mi tribetano Ogni volta Quindi Adesso Ci pensa Prima L'ho attribuettato Girard Adesso Prozacca Eh sì Vedo Abbassare Siamo oltre Il 55% Dello stack Eh sì Quindi È probabilmente La mano Cardine I bui Sono a 10-20 Quindi All'incirca 15 Era stato Il Di nuovo Il race Di Bozzato A 48 E La tribet A 154 Di Prozacca Quindi Bozzato Ne deve mettere 106 Si riguarda Le carte Almeno lui Noi no Ci tiene Alla sua privacy Ecco Mettiamola così Esatto Di questi Giocatori Ne conosci qualcuno Sono giocatori Cash O brevi Con i tornei Che tu sappia Ma Fondamentalmente Qui Nella Nella Famiglia Isof I giocatori Sono 95% Giocatori Da torneo Proprio Per La giocabilità La struttura Quindi Famiglia Isof Negli anni Ha spostato Proprio L'attenzione Del giocatore Al giocatore Da torneo Perché Fa del torneo La sua Il suo punto Di forza Quindi Sono quasi Tutti Giocatori Da torneo Poi Naturalmente C'è Anche Certo L'amante Del Cash Però Fondamentalmente Sono quasi Tutti Giocatori Da torneo Un bel Format Un bel Format Davvero C'è il Fold Ancora Di Bozzato Che si Rimette Le sue Chip A posto Quindi Non Decide Anche Questa volta Di mollare Il colpo Naturalmente Poi Non vedere Le carte Dell'avversario Ti manda Anche un po' In tilt Questa cosa Di essere Tribettato 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 E mai Vedere Le carte Le carte Dell'avversario Eh sì Perché Da 25 Big Blind Esceso A 17 Un attimo Sì Esatto Il prossimo Ricordiamo Che è 12 24 No Se non ricordo Male Scusami Dovrebbe essere Forse 10 30 E poi 15 30 Quindi Insomma Siamo ancora In modalità Di gioco Ancora Avanzata Attonello Abbiamo parlato Prima Con te Di questo Domani Del tuo Day 1C Ma non abbiamo Ricordato Naturalmente Che cosa Succede La domenica Nel Day 2 Day 2 Che Ripartirà Domenica Con Il buio A 12000 Questa volta In questa Situazione Senza La Regressive Quindi Senza Tornare Indietro Di un paio Di livelli Come invece Era stato fatto Nella Nell'evento Scorso Quindi Si riparte Domenica A 12000 Una struttura Che Naturalmente Secondo I calcoli Di Isop Secondo Le Statistiche Che Ormai Fanno Da padrona In quel Che Il poker Ci deve dare Ci porterà Più o meno Al 40 45 Per cento Di giocatori Al day 2 Quindi Fantastico Si gioca Quasi al 50 Per cento Dei giocatori E quindi Si riparte Da 12000 Con possibilità Naturalmente Di iscrizione Anche altri due Come al solito Prima dello start 40 45 per cento Di giocatori In gioco Di tutti i partecipanti Vi ricordo Che solo Ieri Abbiamo fatto 180 45 Di gennaio Insomma Domenica 12000 Si riparte Mi raccomando Belli carichi Belli pronti Quanto è Secondo te A fronte Di questi numeri Che ti ho detto Quindi Si riparte Da 12000 Il 40 45 per cento Dei giocatori In gioco Secondo te Quanto è Uno stack Per il tuo Modo di giocare Con il quale Andresti comodo Al day 2 Di domenica Guarda Non ti nascondo Che Ho visto l'everage Si Con l'everage Siamo in circa Intorno ai 75 Bui Da quello Che ho calcolato 73 bui Esattamente E beh Parliamo di cifre Veramente importanti Veramente Veramente importanti Guarda Non ti dico Che è comodo Colui che magari Entra A fine All'ultimo livello Del giorno Prima Sostanzialmente C'ha 27 bui Si Quindi La struttura È bella Anche per questo L'ho scelto Proprio per questo Il torneo Perché come sai Non sono un amante Dei tornei Si si Vai molto A selezionare I dettagli Quindi ho valutato Il discorso Giocabilità Tanto E vale la pena Anche per il discorso Del rientri Perché c'è un solo Rientri Esatto Ed è fondamentale Per me Non mi piacciono I multishance Oppure i rientri Buttati così È una bellissima formula Ripeto L'ho ripetuto più volte Ma sicuramente Spero che incentiverà Qualcuno a capire Che tentare Non nuoce Io non l'avevo mai fatto Mi sono trovato bene Sicuramente Sicuramente Lo ripeterò Benissimo Nel frattempo Proasca si porta a casa Un bel piattino Ritorniamo a vedere Quello che succede Girard 770 Proasca 3,92 Secondo il cipo E bozzato 3,43 2,74 Per Vinci 2,30 Per Stemberger E Antonino 1,173 Mila Certo Visto la struttura Stavo notando Un'altra cosa Proasca Penso che sia Sloveno Credo di sì Il cognome Non è proprio Sloveno È più austriaco Però credo che sia Sloveno Avevo parlato Un po' al tavolo Mi stava raccontando Un po' Della sua esperienza Mi ha parlato Proprio che Ama Il Potlimit In un modo particolare Quindi Mi piace davvero tanto Lo rilassa molto Al tavolo E Quindi parlavamo Proprio di questo Ma non solo con lui Con altri giocatori Perché Prediligere il potlimit Al non limit È una domanda stupida Però è un gioco Totalmente diverso Totalmente Molti si chiedono Cosa devo fare Cosa devo fare Magari nel dettaglio Li puoi anche spiegare Come funziona La gestione dei bui Sarebbe curioso In questo però Mi deve aiutare Tu Bella 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 cosa Si si può fare Si Si può Naturalmente Perché molti mi chiedono Si Ma io faccio pot Perché Perché Che vuol dire Io sento pot Perché A moda Perché pot Perché Gli stavamo spiegando Cosa significa Questo fare pot È certo Perché Perché se siamo a bui 100-200 Il giocatore Subito prossimo Dice Pot Pot 700 E perché mi dicono 700 Allora tecnicamente Perché il piatto Il piatto rilanciato Il massimo di rilancio È il doppio Della puntata Più tutto quello che è All'interno Del piatto Quindi nel caso Specifico 100-200 Il pot 700 Perché il rilancio È il doppio Dell'ultima puntata Quindi 2x2 4 Più Piccolo e grande Il bruglio Quindi 6x7 Quindi il pot È 700 Quindi Per calcolare Velocemente Non prendetelo Come regolamento TDA ragazzi Perché non è Il regolamento Ma per calcolare Velocemente Il pot È Per 2 Più Tutto quello Che c'è nel piatto Quindi l'esempio classico Che hai detto tu Antonello 100-200 Pot 700 Nel caso in cui Il giocatore Subito dopo Dicesse pot Devi fare 7x2 Più tutto quello Che c'è nel piatto Quindi 1.400 Più 700 Più 200 Più 100 Quindi 2.100 Più 300 2.400 Quindi Il calcolo Veloce del pot È Per 2 Più tutto quello Che c'è Quindi per 2 Che cosa Per 2 Naturalmente L'ultima puntata Più alta Più tutto Quello che è Già nel piatto Per questo motivo Il dealer Nell'Oma Lascia sempre Assolutamente Le chip Davanti ai giocatori Perché deve Calcolare Fino a che Non si raggruppano Al centro del piatto Quindi non si forma Nel piatto Preflop Deve calcolare E deve calcolare Immediatamente Quello che è Appunto Il pot E lascia Davanti al giocatore Proprio Le fiche Ben visibili Per arrivare A un calcolo Veloce Io che sono Dealer Anche di Oma Cash Game E torneo So che La velocità È importante Perché il giocatore Se ti dice pot Tu non sai Quanto è Tu dealer È un problemino Poi perché Fai pot Naturalmente Poi va a vedere Quelle che sono Le dinamiche Del giocatore Se sei un giocatore Aggressivo E vuoi Far comprare Meno possibili Layouts Che sono tantissime Come dicevi tu Nel Oma Soprattutto Preflop Quasi infinite Le chiamano Eh sì Sì perché poi Una carta cambia Può aprire Tre quinti di colore Tre quinti di scala Insomma Se tu giochi A Oma Con le carte Dal 6 al 10 Dal 6 al Jack Ti apre 9 su 10 Una possibilità di scala Le combinazioni Sono veramente infinite Ecco In questo caso Infatti 10 9 2 C'è Sternberger Che ha K donna Jack 8 Con Ha un miliardo E mezzo di carte Ma Fondamentalmente È ancora sotto Perché ha un miliardo E mezzo di carte Ma le deve prendere Contro Vinci Che invece ha Assodonna 7 7 Che in questo momento Non lo sanno Non lo sanno Ma c'è di più C'è per entrambi Un draw Di colore Di colore Con Nats e second Esatto Nats e second Quindi se esce fuori All turn Che non esce Sternberger Praticamente È Semimorto Ancora Avanti Vinci Con la coppia Di 7 Con Sternberger Che ha Tutte le scale Buone Non ha il colore Buono Ma lui Potrebbe pensare Di sì Infatti Va in Bet 30.000 Esplorativa Vinci a questo punto Deve decidere Se comprare Un cuore Al river Anche se lui È sopra Ma non lo sa Naturalmente Noi lo vediamo Con le carte Scoperte Ma qui può anche Passare Semplicemente Per un discorso Di accoppiamento Di board È fondamentale Quando sul board Nel pot Limitò Ma I board Perati Esatto Vuol dire Cambiano tutta La struttura Del gioco A noi adesso Ci sembra Ma no C'ha tutti i cuori C'ha tutti i set C'ha un minuto Le carte Ecco Ecco Questa è pericolosissima Come carta Però checkeranno Entrambi Poiché Quella coppia di 9 Ha aiutato tantissimo Sì Poi È chiaro Sternberger Ha colore Ha colore Al cappa Però checkeranno È bravissimo Ha indovinato La lettura No ma è quasi Questa struttura Di gioco È quasi Easy Per i giocatori Di Oma Perché non si mettono Paura assolutamente Nessuno si sente Vincente Con il colore Con i board Perati Sternberger Si tiene 5 B-Blind Quindi Non si è fatto Ingollosire Da questo colore E mandare Nolin Questi ultimi 5 B-Blind Vinci È adesso A 3 E 44 Nel frattempo È aumentato il livello Come dicevo Mi ricordavo bene 10-30 Quindi 10-30 Il livello Adesso Sternberger Lo sono Nel baratro Ma naturalmente Una mano E si torna Un pochino A rispirare Girard è a 7-70 Ne ha Veramente Una quantità Adesso si è un po' Fermato Sta osservando Magari Il gioco Degli avversari Anche perché Comunque Antonello Adesso scalare 1-2-3 posizioni Significa Non è male Non è male No Che altro Per un torneo Con un buy-in Di soli 300 euro Portare a casa Una cifra Che Sì sono 3.000 Se non ricordo male O 3.800 O 3.900 Il primo Doveva essere 3.900 3.900 Molto molto interessante Soprattutto per un torneino Si fai Insomma Chiudi il weekend Inattivo Beh poi certo Naturalmente Siamo in un casino È naturale Tutto può succedere Però naturalmente Se tu ti Applichi Nel torneo di OMA A fronte di 300 Te ne porti 3.900 Ebbene Diciamo Hai fatto un bel weekend Hai fatto un bel weekend Ti dà anche la possibilità Magari di domani Di iscriverti al Day 1 C Del main event Nettamente più rilassato A che ora domani eh Perché mi chiedevano Lo sai Allora Facciamo questo Piccolo Questa piccola cosa Perché Che cosa succede Ci chiedono sempre Che cosa A che ora iniziano I tornei Che ora iniziano Noi giriamo Come sempre La comunicazione Sul Andate sul sito C'è la locandina Naturalmente Di quello Che Che è il programma Dettagliato Ma comunque Domani Sabato 15 gennaio 2022 Alle ore 13 ci sarà Lo start Del day 1 C Del day 1 C Domani 200 sempre con Sempre con un rientri 30 mila Lo stack Un pochino Meno I bui Quindi da 25 minuti Con la late registration Aperta fino All'ottavo Livello Naturalmente Non è solo Quello Perché poi c'è L'1 D Alle ore 18 Lo start Dell'1 D Quindi Il torneo Ma in 400 Un rientri 50 mila 40 minuti Sempre solita struttura Sarebbe l'ultima possibilità Che è la L'ultima possibilità Anche se non è proprio l'ultima Perché La possibilità Di entrare In gioco È anche Domenica Prima dello start Prima della prima mano Si può ancora entrare Si entra con 50 Ancone i bui Mille e duemila E quindi C'è ancora la possibilità Naturalmente Prima dello shuffle Appendile Del Dei due La cosa Nuova Finita Che abbiamo introdotto In questo stage 2 È il Saturday night All starts By in 500 Torneo Fantastico 30 mila Di stack E 20 minuti Di una Giocabilità infinita By in 500 Già sold out Con Wedding list Aperta È un All star poker Che Vuole Vedere Ai tavoli By in Diciamo Già un po' più alto 500 Di by in Certo Perché bisogna Rispettare Ognuno Insomma Le proprie Esattamente E Credo Che Questo By in 500 Naturalmente Attiri Il giocatore Il giocatore Vero Il giocatore No Che non Certo By in 500 Importante Anche se ho notato Molti amatori Prediligono I by in Un po' più High Beh si Se hanno la possibilità Se sei un amatore Insomma Dipende No Se sei una Io parlo Quando parlo Di giocatori Professionisti Sì è normale Che si muovono No Sui by in 25.000 15.000 10.000 No High Hall Questo Tipo di Non è il nostro Caso Beh ma Comunque Tu sai Antonello Che anche qui Ai campionati italiani Di poker Soprattutto ai mini event Sono Passati a trovarci Gente come Dario Sanmartino Abbiamo parlato di Salvatore Bonavena E' venuto Max Pescatori A giocare Insomma Hanno giocato Quasi tutti gli italiani Più famosi Andrea Benelli Ne ha fatti Più di uno Il grande Marcello Mignocchi Che tantissimo Che non lo vedo Amico mio Marcello Vienici a trovare Con il quale ho giocato Cash Game Oma E' veramente piacevole Marcello al tavolo E' una grande persona Spero che ci ascolti Mi ricordo che Facesti anche una scala colore Contro di lui Mi sa di sì Mi sa di sì A Cash Game Perché me la vengono a raccontare Sì Poi Marcello è piacevole al tavolo E ci divertiamo parecchio E' una bella persona Infatti lo salutiamo Lo aspettiamo E viene spesso a giocare Gli eventi Quando può Quando è qui in zona E no Mi piacevole persona Un caro ragazzo Si è un pochino Allontanato Dai circuiti Dal circuito Andrea Sorrentino Grande Andresorre Se ci sei Seguici Dacci Mandaci un bacio Peccato che sei dell'Inter Ma insomma Ti vogliamo bene Alla grande Ma insomma Questi giocatori L'hanno fatto tantissime Tantissimi eventi Con noi Allora Ritorniamo Per un attimo Alla Scusateci Se noi divaghiamo Dobbiamo Comunque Insomma Anche Commentare Solamente Mani tecniche Poi magari Rischiamo anche Di andare un po' Sul pensante Sul noioso Girard Ha Asso K87 E Sta chiedendo Quanto è il race Perché c'è un 100.000 da Fare call Su Una Race Di 130.000 Di Hullo Di cui non vediamo Le carte Pro Asca K Donna 10 4 Double suited Con Donna 10 Di cuochi E K4 Di quadri Anche lui Sta valutando Se Mettere questi 100.000 In più Anche questa È una mano Double suited Come noti Anche molto Molto Sono belle Sono Sia Doppio colore Che Questo 10 Donna K Ottimo Per Eventuali Scale Ha Fatto Call Da OTG A 10 30 E Ha Trovato Il race A 130 Di Hullo Adesso Sta Valutando E Pensando Certo Da Terzo Anche Qualche Odds In Più Deve Mettere 100 Per Un Piatto Di Quasi 400 Io Penso Che Abbia Mille Davanti Da Quello Che Si 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 Credo Che Sia In All in Automatico Credo Che Sia In All in Naturalmente Non glielo Permette Tecnicamente Il pot Ma Insomma Dovrebbe Essere Praticamente Quasi In all in Non ho capito Se girata Abbia Fatto Solo Collo Abbia Detto Reis Per Indoorlo Nello In Esatto Esatto C'era Erano E Veramente Solo Mille E Quindi Ci Vediamo Eccolo La Donna Asso 6 Con Asso 6 Di Cuori Contro Asso K 8 7 Digi Guard E Vediamoci Il Flop 9 9 10 Bilaterale Per Girard Che Adesso Con 8 7 Anche Non sta Messo Male Naturalmente Lo potrebbe Salvare Questo Board Qui Vediamo Il Tan Il K Che Già Lo Manda A Sorpassare L'avversario Ullo Oltre Di Picche Quindi Non Si Chiude Il Full O La Scala Con Un Jack Per Ullo E Quindi Eliminato Antonino Ullo Ancora Una Volta Da Girard Quindi Tre Eliminati Tutti E Tre Da Christophe Girard Che Sale A Quasi Un Milione In Questo Momento Ha Esattamente Quasi Quasi Lo Stacca Di Tutti Gli Altri Giocatori Il Totale Saranno Forse Due Milioni Spicci E Lui Ha 9 E 41 Su 10 Mila 30 Mila Quindi Insomma E' chiaro Che come Vedi Sugli All-in Loma Diventa Oldem Sostanzialmente Perché Effettivamente Non puoi fare Nessun Tipo Di Riflessione Di Ragionamento Lì E' Quasi Un Non Limit Però E' chiaro Che Le Start In End Sono Fondamentali Ecco Che E' Stato Anche Fortunato Lo Short A Trovare Quel Tipo Di Mano E' Stato Sfortunato Altrile Esatto Il K Che Poi Aveva Asso K Se Non Sb Quindi Non Era E' Stato Davvero Asso K 8 7 Su Flop 9 9 10 Gli Si è Aperta Anche La Bilaterale Insomma Ne Aveva Tante A Aperto Tutte E Quattro Le Carte Lui Mentre Lui Era Bloccato Sulle Su Esattamente Esattamente Il Dato La Scala Nats Non L'ha Trovata Naturalmente Quindi Girarde Elimina Anche Hullo E In Questo Momento Sono In 5 Girarde 9 41 E Vola Proprio Nel Count Il Nostro Amico Pasquale Vinci E' Lì A 334 Mila Chip 10 30 I Bui E Butterà Facilmente Queste Carte Ormai Si Donna 6 5 5 Che Gioca Proprio Piccole Lui Di Su Bozzato Invece Non Abbiamo Vista Mai Passa Anche Girarde Vediamo Che Cosa Ha Invece Vediamo Se Riusciremo A Vedere Le Carte Di Christophe Girarde Che Di Solito Le Poggia Invece Nella Posizione Corretta Ma Invece In Questo Momento Non Riusciamo A Vedere Pro Aska Da Big Blind Va Per Il Check Quindi Piatto In War Blind Non Vediamo Le Cart 7 9 Jack Con Due Fiori Al Flop Questi Sono Pericolosissimi Perché Ricordiamoci Che Stiamo Giocando Con 8 3 11 Carte Se Sono Davvero Sono Tante Su 52 Mazzoli 52 Quindi Parliamo Che Ci Sono Coppie Set Probabilis Scale Probabilis Incast Draw C'è Tutto Quindi Ho Visto Che Ha Passato Sì Pro Aska Ha Bettato Sulla Cerca Di Girard E Si Porta A Casa Un Piattino Insomma Di Due Bui Niente Di Che Pro Aska Per De Pro Aska Guadagna Due Big Blind Si Porta A 4 32 334 Per Pasquale Vinci 303 Per Stefano Bozzato Chiude A 160 Mila Quindi Poco Più Di 5 Blind Stemberger Con La In Italiano E C'è la S Slovena Quindi Che ci Ormai Ci hanno Insegnato I nostri Amici Flormen Le Isop Uniscono Anche Parti Ho visto Un sacco Di Giocatori Europei Molto Bella Questa Abbiamo Questa In Questa Tappa Ci sono venuti A trovare Giocatori Belgi Sloveni Croati Naturalmente A Iosa E Viene A giocare Non è Ancora Venuta In Questa Tappa Ma Ha Fatto La Prima Tappa Sì Assolutamente Addirittura C'è un giocatore Che viene Dall'America Wow Un signore Simpaticissimo Che risponde Al nome Di Ibrahim Ibrahimovic Che Ha Addirittura Ha portato Un regalo Al nostro Patrono Gian Giamarelli Gli ha portato Una Statua Della Libertà In miniatura Perché Viene Da New York Gli l'ha regalata Ed è Ufficialmente Il giocatore Che viene Da più lontano Ora credo Che sia Di nuovo A New York Non lo so Ma insomma Ma poi Un signore Secondo me Che ha più o meno Una settantina D'anni Simpaticissimo Divertente Funny Come dice lui Si diverte Tantissimo A giocare E ha apprezzato L'invito Delle Isop E è venuto A giocare I campionati italiani Ed è tornato Anche per la tappa Di novembre Si è fatto La prima tappa E' stato anche Intervistato Dalla nostra Vittoria Castagnotto Bella persona Bella persona Ma poi Come io Dico sempre Antonello Giocatori di poker Ha qualcosina In più Forse La velocità Di pensiero Lo porta Ad aprire Anche la mente Sulla vita Il fatto Di dover Gestire Emozioni E situazioni Nell'abito Pokeristico Secondo me Ti porta Anche a gestire Emozioni E situazioni Nella vita Si Penso Posso essere D'accordo Posso essere D'accordo Perché Anche il discorso Di intraprendere Questa Questo diciamo Contatto Al tavolo Sei con sette O otto Molte volte Dieci persone Sconosciute Nove delle quali Sì Sondamentalmente Sconosciute Magari ti porta Anche ad aprirti In effetti Quasi Terapeutico Sì Prendendo un termine Magari un po' Meno tecnico Del gergo Pokeristico Ma comunque Idoneo A quello che voglio dire Quasi terapeutico Nella Nell'aprirti Nel conoscere Nel parlare Nel vivere Altre persone Altre Il Texas Hold'em È infatti Diventato anche Uno sport sociale Dove si socializza Dove No? Beh Se no Non ci sarebbero Libri Non ci sarebbero Esatto 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 Ricordiamo Un'altra cosa importante La possibilità Uno dei pochi sport Anche se Tante persone Dicono Ah sì Leo Tu quando parli Di poker Parli di sport Non parli di gioco Io parlo di sport E do le mie motivazioni Uno dei pochi sport Dove Uomini e donne Possono giocare Insieme Nel frattempo Guarda un po' Che succede All in E col Con Stenberg Pro Aska Donna donna 3-9 Per Stenberg K donna 9-8 Ed eccola là Il K Il K al flop Per Pro Aska Ancora un 10 Non c'è possibilità Per Di colore Per Stenberg Che quindi Non trova Né la scala Né Una donna Che l'avrebbe Fatto Raddoppiare E quindi Eliminato Anche l'amico Stenberg Che quindi Pro Aska Non è Per la prima volta In questo tavolo finale Non è Girard Che elimina Un giocatore Ma è Pro Aska Si rimane In 4 Quindi dimezzato Il tavolo televisivo Si è partito in 8 Ricordiamo Con 4 italiani E 4 no Adesso siamo In 4 Con 2 italiani E 2 no Quindi 50-50 Ad ora Ancora Non abbiamo visto Le carte di bozzato Allora Se vince lui Se vince lui All'intervista Gli chiederò Con che carte ha giocato Perché non lo Non lo sappiamo Tutto in the dark Ah magari è una tattica Per non far vedere Il suo gioco Dici Io non vi faccio vedere In televisione le carte In modo tale che Non scoprite Il mio modo di giocare Possibile Sì Sì Bene Comunque Noi siamo In pausa I giocatori Sono in pausa Finito il Livello 10.000 30.000 Noi Andiamo in pausa Ringraziamo Antonello Guido Per essere stato con noi Ciao ragazzi Ciao Leo Sempre un piacere Tanto sicuramente Ci vediamo ai tavoli domani Assolutamente sì Speriamo di trovarti Questa volta Protagonista Del Main Event Day 1C Ti facciamo in bocca al lupo E ti salutiamo E ci vediamo domani Ciao Leo Ciao a tutti Ciao ragazzi Noi andiamo in pausa Ci ritroviamo tra poco Ciao Ciao a tutti 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 Guido è andato Guido è andato a riposare Ci ha abbandonato detto basta No a parte gli scherzi ci ha dato una grossa mano nella prima parte di convento televisivo adesso ritorniamo con l'action ai tavoli sono rimasti in quattro il buio è ancora 10.000 30.000 il primo piatto della seconda parte di questo tavolo televisivo lo prende Pasquale Vinci che si porta a 360.000 Girard ha superato il milione quindi 1.085.000 a fronte dei 2 milioni in totale di stack ai giocatori di Proasca 5.70 abbiamo detto Vinci 360 chiude Stefano Bossato in questo momento con 8 b blind ovvero 265.000 chip nel frattempo vediamo un po' di action Asso 10.82 per Proasca da UTG le lancia immediatamente Stefano Pasquale Vinci donna jack 6.2 da bottone fold anche lui parola allo small blind bozzato jack 4.32 vediamo un po' da small blind che cosa fa e invece si arrende e quindi c'è un walk per Girard che vince anche contested anche questo piatto nel frattempo mi arrivano comunicazioni ah e naturalmente io non ve lo ricordo spesso ma potete assolutamente interagire con noi sul canale youtube Poca Italia TV dove state vedendo questa diretta o su naturalmente tutti i canali social potete interagire potete chiedere scrivere domandare curiosare potete fare e chiedere qualsiasi cosa noi in modo nell'altro cercheremo di darvi tutte le informazioni necessarie tutte le domande una della domanda che mi è arrivata nel nel frattempo è ci dai un po' di numeri dei due dei uno che si sono conclusi del main event sì certo che vi do i numeri in questo momento sono 288 gli entris che hanno partecipato al dei uno a e al dei uno b il montepremi ha superato già quota 65 mila e come abbiamo detto domani ci sono le due possibilità di giocare dei uno c e dei uno d alle ore 13 con bain 350 il dei uno d invece alle 18 con bain 400 vi ricordo che fino allo start del dei due c'è la possibilità di fare bain e entrare direttamente al dei due tutto questo naturalmente prima della prima mano di domenica alle 14 quindi mi raccomando potete ancora entrare 288 gli entries se non ricordo male dovrebbero essere 130 140 forse 130 le persone che hanno superato il taglio del dei uno di questi primi due dei uno scusate l'impappinamento quindi come dicevamo prima le statistiche ti portano al 40 45% di persone che passano il dei e insomma 65.000 euro di montepremi già superato no venite venite domani domani alle 13 dei uno c alle 18 dei uno e di possibilità di iscriversi anche all'ultima mano insomma avete avete ancora modo di giocare nel frattempo a proposito di giocare qua Proasca che ha giocato la mano con 7653 trova una praticamente ha presse tutte e tre lui e Vinci che ha invece KK Asso 2 si trova in una posizione un po' scomoda è vero che ha ancora un po' di mani di carte per vincere il piatto ma veramente le ha prese tutte e tre Proasca ha non solo doppia coppia ma ha anche questa infinita possibilità di scala invece Vinci con KK con KK Asso 2 Vinylin c'è il call naturalmente di Proasca dice se ce l'ho tutte io tu che cosa hai si presenta con KK naturalmente e con una possibile che trova di fiori vediamo un po' di quadri che apre anche il colore di quadri a Vinci quindi aumentano un pochino la possibilità di vittoria 9 di fiori nulla per Vinci che viene eliminato contro 7 6 5 3 di Proasca e quindi signori subito perdiamo all'inizio di questa seconda parte di tavolo televisivo il nostro simpatico amico Pasquale Vinci che esce in quarta posizione e adesso siamo Christophe Girard 1.085.000 Proasca con 9.40 e bozzato con 255.000 chip 3 rimasti quindi podio per i 3 giocatori prima seconda e terza piazza tra poco vedremo chi sarà il vincitore è una una mano importante dove Vinci forse non ha spinto tanto preflop con una mano molto molto importante ha fatto giocare Proasca da big blind con colicata la prese tutte poi purtroppo era anche corto Vinci quindi fondamentalmente non è che aveva tantissima possibilità di manovra ma comunque viene eliminato Pasquale Vinci in quarta posizione abbiamo tessuto le lodi insieme ad Antonello Guido prima e ancora prima da solo del gioco solito di Vinci che comunque ha pagato anche questa volta perché una quarta posizione è sempre sempre un ottimo piazzamento in un torneo dove vi ricordiamo ragazzi che il 10% più o meno circa il 10% degli iscritti va in the money quella bellissima con le bellissime tre lettere ITM che significa in the money quindi a premio dopo una magari faticata di 6 7 8 ore al tavolo è anche bello arrivare in the money in questo caso i premi erano 8 se non ricordo male abbiamo seguito all'inizio seguito meno lo ma perché c'era il main event che era in chiusura e quindi abbiamo dato un po' più di spazio mediatico al main event ma adesso che siamo al tavolo televisivo ci concentriamo sullo ma pro asca di nuovo una mano importante donna donna 9-5 in tre non è male una mano del genere con 9-5 di quadri donna donna stefano bozzato passa da small blind e pro asca e scusatemi e girard si trova con asso k donna 2 double sweet bellissime carte infatti c'è il call da parte di scusate il check da parte di girata che naturalmente prende kk al flop quindi top set per girate con pro asca che questa donna donna non so se si sente buono a questo punto girard da big blind punta 50.000 no scusate aveva ceccato e pro asca aveva vettato 50 girard va in race naturalmente e pro asca si arrende subito bravo bravo a passare anche perché non aveva neanche la possibilità di un tro di cuori quindi fold da parte di pro asca girard si porta a casa 90.000 si ammonticchia il suo stack e che va a finire a 1.215.000 con 8.50 di pro asca che si era riportato lì nelle vicinanze di girard grazie all'eliminazione di vinci e bozzato nel baratro con 7 big blind 10.30 ancora per pochi minuti perché tra breve tra poco il buio diventerà 20.000 40.000 siamo ancora a 10.30 bozzato 7.732 da UTG o da bottone in questo momento è la stessa posizione fold deve trovare il momento per provare a fare un buon double up Stefano bozzato e che adesso in due mani su tre pagabui e con 7 big blind non è facile la manovra in questo momento infatti c'è il giro di bottone e Stefano bozzato diventa big blind quindi ne deve mettere 30 dei 215 in dotazione e salvo stravolgimenti clamorosi forse assisteremo forse assisteremo ad un un zap sloveno ma insomma mai dire mai soprattutto nello ma il buon vecchio detto one chip one chair è sempre valido e quindi qua non è proprio one chip anzi bozzato qualcosina ancora ce l'ha nel frattempo parola a Girard che va di peso ne punta 100 mila proprio per indurre per committarsi contro un eventuale all in di Stefano bozzato proasca jack 10 9 7 bellissime carte in partenza va in all in bozzato va in all in per le sue i suoi 215 mila e allora cellulina e colla asso donna jack 9 per Stefano bozzato che sono carte anche molto molto carine per possibilità di colore di quadri che blocca il colore di quadri di Girard con donna 884 K jack 5 quindi prende un jack bozzato un 6 di cuochi che apre una possibilità di scala con un 7 per Girard c'è un 4 river che non aiuta Girard quindi double up da parte di bozzato che come dicevamo 1 chip 1 share adesso si riporta a 440 mila quindi è alla metà del secondo della seconda piazza di provasca di 850 ma comunque è ritornato immediatamente in gioco si diceva proprio questo non aveva non era proprio nel diciamo ai margini bassissimi anche se 7 big blind non sono tantissimi ma 14 si rientra prepotentemente in gioco per Stefano Bozzaro che ha trovato una mano anche diciamo nel momento del bisogno quindi da big blind una mano importante con assodonna jack 5 e quindi si riporta sempre ultimo in chip ma comunque a 440 mila a fronte di piccolo buio 10 mila grande buio 30 mila domani altro appuntamento con il torneo di OMA naturalmente non l'OMA main perché finirà questa notte ma l'OMA light un bain 200 quindi ancora una possibilità per gli amanti di questa variante fantastica che stiamo declamando tutta la sera e da naturalmente un sacco di tempo qui alle isop dove abbiamo scelto di far giocare questa variante in tutte le tappe anzi più volte a tappa come nel caso specifico di oggi OMA main domani OMA light quindi domani appuntamento ancora con l'OMA light torneo molto carino domani lo start dell'OMA light alle 14 con bain 200 rientri 30.000 lo stack 25 minuti di bui con late registration entro l'ottavo livello noi invece siamo con l'OMA main e con Stefano bozzato che trova jack jack asso 3 da bottone non male con asso 3 di quadri sui dead jack jack neri una mano carina dalla posizione che ha quindi apre naturalmente la possibilità di giocare il colpo quindi bozzato decide per il call va da small blind girard con donna 9 8 di quadri e 6 di cuori e girard fa call anche gli da big blind provasca che ha anche lui 3 carte di quadri quindi 8 carte di quadri in 3 giocatori decide per il check c'è l'asso per bozzato unico che ha asso c'è qualche dro di scala per provasca e per girard non per bozzato che però in questo momento è avanti sulla flop punta 65 mila giustamente da bottone con le 3 carte rainbow e quindi fold da parte di entrambi e bozzato si porta a casa un altro piattino e sfiora quasi i 500 mila credo che sia in questo momento il momento di stack più alto per bozzato che non ha visto tantissime carte all'interno della prima parte del tavolo televisivo ovvero quello che porta da 8 a 4 giocatori nella seconda parte ha fatto subito un double up quando era corto quindi si è riportato dai 7 ai 14 buio adesso ne ha 16 quasi 500 490 per la precisione con 970 di girard e 800 espicci da parte di pro asca girard prima a parlare con jack 10 4 3 double suited jack 4 di quadri 10 e 3 di fiori ma decide di passare pro asca asso 882 con una bella mano da small blind va in race 120 mila e bozzato da big blind passa adesso un paio di colpi su 2 su 3 quindi passa questa mano e lascia il suo big blind a pro asca che ritorna a 860 mila la differenza tra girard e pro asca adesso è un pochino più bassa dopo naturalmente lo stack che ha dovuto lasciare a bozzato nell'all in prima girard quindi 970 per girard 860 per pro asca 4 e 50 per bozzato piccolo buio stefano bozzato grande buio christophe girard con pro asca che è primo a parlare giard pro asca passa bozzato donna jack 4 3 bozzato guarda le carte girard guarda pozzato che folda e c'è walk anche in questa situazione naturalmente come dicevamo prima con tonnello guido i nostri microfoni la scelta della starting end in nello ma pot limit naturalmente e non nello ma ai lo ma nello ma ai è fondamentale perché è necessario capire subito che si deve giocare bisogna bisogna avere la possibilità di giocare e tutte e quattro le carte concentrarsi solamente su le migliori due non è il modo migliore per approcciarsi all'oma asso 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 7 2 asso 8 e 3 non sono le carte più belle dell'oma sono molto meglio carte double suited o in scala tipo 7 8 9 10 sono carte molto molto più performanti perché abbracciano naturalmente una quantità di possibilità di fare scale e colore molto più importante di invece una coppia d'assi con due carte completamente inutili naturalmente i due assi preflop sono ancora importanti anche nell'oma ma non naturalmente come nell'old in questo caso asso don 7 4 per girard che trova top per al flop con asso 10 2 pro asca non vediamo le carte ma comunque si arrende alla situazione e quindi il piatto va a girard che rientra subito immediatamente sopra il milioncino a fronte dei 2 milioni e 2 2 milioni e 3 totali di dotazione di tutti i 57 giocatori che hanno partecipato a questo primo torneo della a cui daremo il trofeo il premio a fine serata di questa nuova season stage 2 della season ESOP 2021 2022 che si concluderà nelle ultime due settimane di maggio con i nostri campionati italiani di poker che ritornano alle date storiche di maggio quindi la tappa scorsa di agosto barra settembre è stata una novità assoluta ma naturalmente sapete perfettamente il motivo restrizioni chiusure varie ci hanno obbligato a facilitare quasi una stagione intera con appunto la chiusura della stagione a settembre ad agosto settembre con i campionati italiani si rientra nei ranghi del prossimo anno quindi di questa stagione del 2022 con i campionati italiani nelle ultime due settimane di maggio iniziate mettere i classici circoletti rossi sul calendario perché non potete mancare i campionati italiani di poker ultime due settimane di maggio mi raccomando vi aspettiamo qui tutto lo staff delle ISOP per passare insieme a noi 11 giorni di poker e non solo vi aspettiamo naturalmente con tutte le informazioni video i commenti le foto i blog seguiteci e comunicate con noi e naturalmente se avete domande potete cliccare sulla pagina e chiedere e domandarci qualsiasi tipo di informazione noi saremo pronti a darvela ritorniamo al tavolo perché Proasca con K Donna 76 ha trovato il race di bozzato con Asso K 97 e decide per il call quindi ci vediamo questo flop dove Cristofo Girard sta a guardare i due giocatori più corti che si sfidano su questo piatto che già supera i 200 mila jack jack 6 nessuno dei due ha jack è un flop rainbow quindi non c'è possibilità di colore il 6 preso da Proasca è ancora dietro a fronte di Asso K97 di bozzato che sul check di Proasca va in continuation bet andiamo a scoprire quanto ha bettato se non ho visto male 110 120 mila non ho visto benissimo l'importo di bozzato 120 era e Proasca decide per il fold nonostante abbia preso il 6 e quindi bozzato a molticchia e guardate un po' è quasi quasi arrivato allo stack di Proasca in questo momento un milione e trentamila per Girard 700 mila pari pari per Proasca 550 per Stefano bozzato che fino a un quarto d'ora fa era in push or fold ha scelto per il push nel momento giusto ha fatto double up contro Girard e adesso è rientrato a giocarsi questa fase finale del tavolo televisivo dell'OMA main non ho rimasto in tre in otto partiti più o meno tre ore fa forse qualcosina di meno due ore e mezzo fa verso le due e mezzo due e quaranta e sono nel frattempo le 5 di mattina non sembra ma sono le 5 di mattina Proasca da bottone prende una bella piletta adesso vediamo se riusciamo anche a vedere le carte di Proasca ma comunque piletta per Proasca che su V1030 va in race 100.000 imbossato gioca un pochino con le fisce ma decide di passare e invece Girard che ha Assojack 8-8 belle carte call per Girard il flop 4k9 nulla per Girard studia ma decide perché il check anche per Proasca quindi turn gradis ed è quello dell'asso per Girard naturalmente non vediamo le carte di Proasca che ha risato preflop ma questo Assojack di Girard forse forse è buono c'è il check ancora di Girard a studiare l'avversario Proasca che naturalmente ha aperto preflop va di bet 150.000 e Girard sta pensando ma come ho preso io l'asso non ce l'hai anche tu conta lo stack valuta e decide per il call andiamo a vederci il river flop rainbow non c'è possibilità di colore jack di fiori che dà doppia coppia per Girard che dice tocca prima a me va in all in e c'è il call di Proasca ah no scusate il contrario c'è il check di Girard è l'all in di Proasca quindi ass il jack è faccia pensierosa per Girard perché credo che Proasca sia andato in all in prima di che Girard parlasse quindi infatti gli ha detto guarda tocca prima a me naturalmente Proasca aveva fatto action quindi Girard decide intanto per il check così Proasca è obbligato ad andare in all in infatti si stanno spiegando proprio in questo momento quello che è successo l'all in di Proasca è 4,50 e non è facile questa mano non è facile per per Girard perché è stato molto aggressivo nelle due carte che proprio sono le due carte che ha girato in mano è uscito su 9 4k check check con l'asso appuntato Proasca e con l'asso jack che sono le due carte di Girard appuntato decide per il call alla fine Girard è importante situazione gira asso jack dice io ho doppia coppia tu cos'hai asso jack 8,8 le carte invece di Proasca sono 10,7 9 praticamente in 10,7,9,9 ah c'è il set di 9 da parte di Proasca che quindi aveva ceccato il tris di 9 e intrappolando bene bene Girard che ha trovato le sue carte asso jack ma sono esattamente le carte che l'hanno dichiarato perdente in questa mano e quindi Proasca prende un megapot da un milione e quattro e Girard rimane con otto bui che in questo momento non sono pochissimi ma insomma è stato leader del tavolo per tutto il tempo adesso che sono rimasti in tre si ritrova in fondo alla classifica con 330.000 quindi Lolin di Proasca prima di aspettare che parlasse Girard poteva poteva dare una mano quindi questo segnale di forza non vedeva l'ora di puntare poteva dare una mano a Girard che però non gli ha creduto perché ha puntato proprio sulle due carte che erano le carte che servivano a Girard che pensava servissero a Girard per vincere il piatto invece aveva settato i nove al flop con un ottimo check quindi è andato a rischiare e il rischio ha pagato tantissimo perché ha fatto double up Girard Proasca e in questo momento si sono ribaltate proprio le situazioni al tavolo finale con tre left con Proasca chip leader bozzato secondo e Girard in ultima posizione con otto big blind nel frattempo il buio è aumentato a 20-40 quindi bozzato prima a parlare da bottone decide per il fold Girard K donna 19 double suited credo che l'abbia messe tutte anche se forse sono troppi donna 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 4-2 per Proasca infatti a Girard gli dicono puoi mettere 120 non di più è andato un attimo nel pallone comunque K donna 19 per Girard donna donna 4-2 con 4-2 di picche per Proasca il flop è 8 jack 3 con 2 picche on-line di Girard Proasca dice quanti sono 2-10 dichiara il dealer e call call istantaneo di Girard che gira questo troppo di picche bilaterale infinite carte 10 che chiude scala per Girard e non c'è più nulla da fare 4 di cuori quindi double up per Girard con Stefano Bozzato che è la seconda volta che si vede passare davanti una possibile eliminazione da parte di uno dei suoi due avversari ma c'è stata per due volte il double up da parte del corto e quindi in questo momento Girard si riprende una parte dello stack che aveva un attimo parcheggiato da Proasca si riprende una parte di stack adesso ritorna a 660.000 con Bozzato che ritorna ultimo a 5.30 6.60 per Girard 1.090 per Proasca non gli ha non ha scalfito tantissimo lo stack di Proasca ma comunque potreva esserci in questo momento un zap ma invece per due volte il corto riesce a raddoppiare e quindi si va avanti con 20.40 nuova distribuzione da parte dei nostri fantastici dealer che noi tante volte non menzioniamo ma sono parte integrante del nostro lavoro fondamentale che senza dealer naturalmente non c'è possibilità di giocare l'ingresso dei dealer nei tavoli da poker risale ormai a una cinquantina di anni fa in quel di Las Vegas dove prima si dava carte senza dealer dopodiché è stato introdotto questo lavoro per la sicurezza per la legalità la trasparenza del gioco oggi noi tutti facciamo affidamento a un dealer come una cosa normalissima ma ricordiamoci che un po' d'anni fa ci si dava carte da soli anche in tornei ufficiali ottima scelta da parte degli organizzatori di se non ricordo male Atlantic City che hanno introdotto per primi l'ingresso appunto di queste persone a dare carte proprio appunto per evitare i bari se ricordiamo tutti i film fantastici di Bud Spencer e Terence Hill dove si giocava nei saloon si dava carte ognuno dava dava carte quando toccava lui quindi noi siamo abituati a vedere i dealer al tavolo ma insomma non è partito così il gioco del poker comunque rientriamo al tavolo provasca 1.070 7.20 per Girard 4.90 per Bozzato che ha perso il suo big blind in questo momento invece è small blind Bozzato e big blind Girard provasca dice vabbè vedetela voi questa mano io passo Bozzato da small blind guarda le carte le appoggia completa option check o race per Girard che ci fa vedere le carte donna 10 8 4 con il check di Girard quindi ci vediamo il flop 3.7 jack rainbow nessuna possibilità di colore e una invece possibilità di incastro di scala per Girard ma Bozzato punta 100.000 Girard dice io incastro non me lo compro non me ne frega niente quindi mollo il colpo e bozzato si porta a casa il piatto sale a 530 contro i 680 di girate e un milione e 70 di lascar che in questo momento è big blind � giardine qui via chiacchierando oggi ai tavoli del main event dell'OMA c'è questa voglia di tornare a giocare a poker a Oldham ma insomma quel che si può con i vari amici che ormai frequentano il nostro il nostro format e naturalmente ci si è dato già l'appuntamento al 17 marzo per lo stage 3 17-21 marzo conclusione è il giorno di primavera il primo giorno della primavera quindi la rinascita in quella di Nova Gorizia qui al casino perla di Nova Gorizia appunto tra il 17 e il 21 di marzo ci sarà la terza tappa di questa ESOP season 2021-2022 naturalmente vi daremo tutte le possibilità per prenotare le stanze per venire qui e giocarvi i nostri fantastici tornei ma prima di questo io credo che questa sia una mano importante perché donna donna 10-4 per Girard KK asso 6 per Bozzato c'è il race di Bozzato e il call di Girard con Proasca da Big Blind che molla anche questo colpo e naturalmente la ship leader adesso sta attendendo la possibilità di giocarsi le zap quindi KK per Bozzato donna donna per Girard con l'asso che è buono per Bozzato ma già era buono senza l'asso quindi rafforza ancora di più la sua posizione naturalmente va in all in o quello insomma che gli concede il pot limit fold da parte di Girard che magari si è stato aiutato da quest'asso secondo me perché se fossero cadute due tre cartine piccole magari si sentiva buono con quella donna donna Bozzato si porta a casa il piatto e credo che in questo momento abbia si ha superato Girard quindi un milione e trenta per Proasca 6 e 90 per Bozzato 5 e 60 per Girard quindi gli ha rubacchiato un centino si porta a 17 Big Blind ricordiamo che in questo tornadio ma non c'è l'ante quindi 20.000 40.000 senza ante dall'inizio del torneo naturalmente 20.000 che è ancora alle 5 e un quarto di mattina ancora 5.20 anzi giocabile che in tre hanno un average di oltre 700.000 quindi è ancora giocabile come naturalmente e più volte ribadito la struttura di questo torneo è veramente fantastica Proasca Kjack 17 race a 80.000 quindi mini race click race come si suol dire bozzato da Big Blind dopo il fold di Girard da bottone localmente c'è il race di Proasca e bozzato si compra questo buio e si va a vedere il flop 6 donne 7 c'è un 7 preso da Proasca che va in C-bet continuation bet fold con l'immediato scusate da parte di bozzato Jack di cuori al turn che dà doppia coppia Proasca e apertura di bilaterale quindi Jack 7 preso e K10 in bilaterale per Proasca le carte di bozzato non le sappiamo c'è ancora una mini bet da parte di Proasca altri 80.000 call da parte di bozzato 5 di cuori a river che chiude un'eventuale scala a questo punto bozzato si conta un pochino lo stack ci sono questi 80.000 di Proasca che ha doppia coppia un Jack e 7 vediamo un po' Stefano bozzato valuta credo che abbia fatto call o forse no no non ha fatto call ha fatto race si ha fatto race per 190 e Proasca che dice ma questo 5 mi ha giocato con 8 e 9 mi ha settato qualcosa vedete quante carte in questo caso questo 5 ha aperto scala 3 4 scala 4 e 8 scala 8 e 9 tutte le coppie di 7 di 6 di donne di Jack di 5 donne di Jack magari le eviterei ma tutte le coppie quindi un set ci sono tante 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 variabili che vanno cercate e alla fine Proasca decide di vedere il call di bozzato che gira le carte e gira 8 e 9 appunto il nuts il nuts da parte di bozzato che aveva bilaterale in effetti al flop bilaterale buona quindi Proasca paga questa doppia coppia e a questo punto bozzato si porta a casa un piatto molto interessante e si porta signori e signori per la prima volta da quando è iniziato il tavolo televisivo di questo ma in testa al chip count con 1 milione e 120 Proasca è a 600 girate a 560 quindi un buio proprio di differenza tra i due giocatori che hanno rispettivamente 15 e 14 bui contro i quasi 30 dell'avversario Stefano bozzato che per la prima volta è in testa al count e oserei dire in una situazione in questo momento molto molto vantaggiosa 3 left con quasi 30 bui è vero è che i ribaltoni e i ribaltamenti nell'omara sono molto frequenti lo trovavamo all'inizio di questa seconda parte di tavolo televisivo con 7 bui da grande buio che doveva decidere se morire di buio cercare il dabolap ha trovato il dabolap e adesso è chip leader prolasca da bottone su 20 40 decide per il race 100.000 trova Stefano bozzato con donna jack 65 che però passa la parola a Christophe Girard che con k donna jack jack decide per il call e zap 10 4 3 jack jack di Girard chissà se sono buoni prolasca se non ho capito male ha dichiarato pot 2 20 non ha picche Girard ma ha questi due jack che non sono proprio malvaggissimi si sofferma quel tanto che basta per ragionare su questioni che adesso veramente stanno iniziando a diventare non dico definitive ma veramente importanti torneo naturalmente va avanti e adesso è il momento di diventare eroi condottieri o perdenti nel caso specifico Girard decide ancora per il fold quindi l'aggressività di prolasca questa volta ha pagato Girard scende a 11 bui a 4 60 prolasca si riporta a 720 mila e un milione e 100 per bozzato che ha in questo momento esattamente la somma degli altri due giocatori e avversari Stefano bozzato 1 milione 100 720 mila per Gerard prolasca e 460 mila per Christophe Girard buio 20 40 cambio dealer e nuova distribuzione per chi si fosse messo in collegamento da poco vi diamo vi do anzi che sono solo le notizie per potervi scrivere domani se volete venire a giocare questo fantastico D1C o D1D o se volete giocare Loma Light o se volete giocare il Saturday All Star qui al Casino Perla di Nuova Gorizza e vi le do naturalmente con tutti gli orari e tutto quello che c'è da sapere per la giornata di domani sabato 15 gennaio 2022 alle ore 13 lo start del main event D1C combine 350 stack 50.000 bui da 40 minuti e naturalmente late registration fino alla fine del day il D1D invece partirà alle ore 18 ma tra le 13 e le 18 alle 14 ci sarà lo start dell'Omalite combine 200 un rientri naturalmente sempre 25 minuti i bui 30.000 lo stack e 8 livelli di late registration alle 20 ultimo evento della serata il saturday night all starts torneo nuovo by in 500 un rientri 30.000 lo stack 9 livelli di late registration e naturalmente tavolo televisivo con i bui che partiranno con 20 minuti e diventeranno 25 appunto al tavolo televisivo by in 500 torneo che vi consigliamo è un torneo intanto da vedere nel tavolo televisivo della serata della nottata ma è un torneo insomma che io vi consiglierei proprio di giocare perché questi buy-in così importanti danno anche la possibilità secondo me di giocare meglio perché c'è più concentrazione secondo me quindi il giocatore abituato a buy-in 200 300 quando gioca il 500 gioca più concentrato l'abbiamo visto negli anni e credo che sia non dico una scienza esalta ma quasi torniamo al tavolo perché evidentemente c'è il race di Girard con K Donna 6-4 da bottone il col di Proasca con Asso Jack 9-5 e Bozzato che con 8-7 5-3 decide di vedersi il flop anche quindi credo che sia la prima volta che si gioca in 3 il flop con 4-4 6 attenzione attenzione Girard va direttamente scusate Bozzato punta in bilaterale con 4-4 6 ma c'è il full di Girard che ha proprio 4-6 quindi è quasi morto Bozzato meno dell'1% meno dell'1% perché deve fare solamente scala colore 1-7-7-7-8-8 Turner River insomma un'azione un po' aggressiva da parte di Bozzato che trova naturalmente Girard con 4-6 vediamo vediamo poi il turn se dichiara chiuso il gioco o meno le combinazioni per vincere il postato sono 7-7-8-8 Turner River oppure no è basso dunque ah no c'è anche 5-5 con 5-5 no neanche niente solo no no è morto 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 3 niente morto 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 niente io Zoli e ha trovato il momento ha preso proprio il timing sbagliato per spingere questa bilaterale con invece l'avversario che aveva il full è chiuso certo è che veramente 4-6 Cappadonna 4-6 e allora si va al count perché erano praticamente quasi no erano erano al contrario e adesso si sono ristabilite le diciamo le dinamiche di tutto il tavolo televisivo dall'inizio alla fine con G-Cart Chip Leader bozzato che era sempre lì a metà metà alta metà bassa qualche volta e siamo ritornati esattamente a quello che era prima quindi un milione per Girard 660 per bozzato 600 per Proasca K10 8-4 per Proasca credo credo che abbia fatto call sì call 40 bozzato asso 10-5-4 vediamo non si è scomposto più di tanto ha fatto call e Girard donna 7-3-2 può tranquillamente cercare infatti quello è di nuovo flop in 3 nell'ultimo flop in 3 si sono picchiati adesso vediamo che succede 2-9-6 con due cuochi quindi c'è bozzato che ha asso 4 di cuochi Proasca che non ne ha presa mezza ma punta 100.000 credo che bozzato faccia che isolin esattamente fold immediato di Girard e credo 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 fold immediato anche di Proasca non credo che ci sia possibilità di call a meno che non si voglia impelagare in una scala in castro insomma chiede il conto Proasca ma no passa infatti fold di Proasca che rimane adesso lo short con 4,60 e Girard e bozzato abbastanza vicini 9,80 per Girard 8,40 per bozzato 4,60 per Proasca a fronte di 20.000 40.000 i voi nuova mano con Stefano bozzato da bottone con K10 8,7 e Girard che chiede a bozzato più o meno lo stack insomma sta facendo un attimo incontro per capire se è primo o secondo in chip adesso diventa aggressivo bozzato race 210 che a 20,40 mi sembra difficile forse sono aumentati i bui a 30,60 ma 2,10 non si può fare se è 20,40 comunque fold da parte di Girard e fold anche da parte di Proasca vediamo se sono aumentati i bui a 30,60 chiedo lumi regia credo che siano aumentati perché per fare 210 è esattamente il pot di 30,60 quindi non quasi sicuro che sia così Girard primo a parlare da bottone Assojack 9,7 infatti la regia mi confermano 30,60 in questo momento quindi da bottone Girard Assojack 9,7 cellulina diretto no ma abbiamo cambiato spot nel frattempo ah ok c'è l'all-in di Proasca e il call credo di Girard stiamo ricostruendo l'action ma comunque fatto sta che siamo andati in in showdown con Assojack 9,7 di Girard e Proasca che ha quattro carte che vedremo piano piano adesso la regia ci dirà chi ha vinto questo piatto KK di Proasca credo che non siano sufficienti perché Girard ha trovato la doppia coppia con Asso e 7 e quindi eliminato Proasca in terza posizione il cheap count vede Girard 1.420.000 che se la vedrà contro bozzato in Elzap che in questo momento ha 860.000 in bui sono 30 60 terza piazza per Proasca che aveva provato a spingere un KK c'è stato il collo di Girard con Asso Jack 7 6 se non sbaglio 7 9 forse eliminazione da parte di Proasca e giocatori in pausa perché bisogna allestire tutto quanto per le zap finale che però se non ho capito male credo che vadano subito diretti ah no se la giocano se la giocano ah allora andiamo diretti così bellissimo e quindi ezappe finale Stefano bozzato da una parte Cristof girato dall'altra bozzato con una mano subito importante KK77 mano fantastica race una parte di bozzato 180 5 5 Jack 2 per Girard chiacchierano i due credo che ci sia il colla la parte di Girard guardano entrambi le carte si colla da parte di Girard e ci vediamo questo flop 9 Jack e 2 quindi Girard ha preso top pair scusate doppia coppia Jack e 2 con invece bozzato che a KK77 mamma mia vediamo che succede va in bet Cristof Girard io non so come faccia bozzato a passare infatti non passa gira KK ma Girard ha doppia coppia in questo momento ancora avanti naturalmente non è chiuso il colpo ma è ancora avanti non c'è possibilità di colore per bozzato neanche per Girard che però non ha bisogno di trovare un colore in questo momento vediamo poi il turn 3 di cuori nulla di fatto per bozzato il 7 il 7 magico per bozzato al river aveva bisogno di un 7 di un k per prendere il piatto trova un 7 di picche al river che gli fa fare questo double up con molto risperato certo è che preflop kk77 erano molto nettamente meglio di 5 5 jack 2 7 di picca river che non chiude i giochi quindi count totale e double up da parte di bozzato che secondo me è sopra 1.7 milione 1.7 20 contro i 5 e 60 di girar prima mano di ezap subito in all-in beh naturalmente post flop quasi obbligato doppia coppia per girar di kk per bozzato e si porta 1.7 30 60 10 bui 9 anzi per esattezza per gigard che ha adesso 2 3 4 e 5 completa con bozzato da big blind che studia un pochino lo stack dell'avversario guarda le carte e fa check ciugiamo il flop asso asso 8 nulla per girar check di bozzato e 100 mila di girar da con il mio silenzio sto cercando di farvi entrare nell'atmosfera della testa di bozzato e noi non vediamo le carte quindi siamo come voi si riguarda le carte quindi Girard si porta a casa un piattino di un buio è ancora un milioncino sotto a bozzato ma come abbiamo detto e visto Neloma è veramente veramente facile spostare quantità enormi di chip da un giocatore ad un altro vediamo come si concluderà questo head up finale siamo arrivati siamo partiti anzi con Girard che è stato chip leader di tutto il tavolo televisivo se non di tutto ma quasi della totalità del tavolo televisivo giocando un ottimo poker solido eliminando i primi tre giocatori in ottava settima e sesta piazza in questo momento è secondo in chip ma comunque il giocatore poi non è nuovo nel circuito di sopra ha già fatto bei piazzamenti con noi in questo momento bozzato ha fatto call con donna 10-6-3 con donna 10 di quadri e Girard ha jack 4 di quadri 7 e 5 quindi delle mani veramente si può incastrare il mondo e Girard decide di aprire una mano che fondamentalmente non è l'aprire ma nei zap sapete benissimo che cambiano ancora di nuovo le dinamiche di questo fantastico gioco l'aggressività è fondamentale fold infatti bozzato che preflop la grafica ci dice che è al 55% anche se il preflop dell'OMA è veramente ma veramente aleatorio siamo a 30-60 i giochi sono praticamente fatti siamo nel zap con Stefano bozzato e Christophe Girard che si stanno giocando una prima moneta da 3.900 euro un trofeo dei punti importanti nella classifica OMA insomma tutti gli ingredienti per continuare a vedere questo finale di tavolo cercando di emozionarci vedere quello che succederà soprattutto in una mano come la prossima dove Girard ha Kjack 8-7 contro un 19-63 di bozzato vediamo flop flop a scala bozzato flop a scala e Girard fa doppia coppia eccola lì la mano doppia coppia contro scala all in Nicole e c'è lo showdown Nats per adesso contro top 2 Kjack 8-7 contro 19-63 un 8-17 per Girard per continuare a giocare un 5 river un 2 di quadri inutile e quindi bozzato con 6-9 chiude scala a flop elimina Christophe Girard ed è il nuovo vincitore di questo Omar Main che si conclude in questo momento non a caso alle 5-55 5-55 con board 2-5 per terra ma bozzato non gli servono 5 ma gli serve il 6 e il 9 di pic per vincere fare scala eliminare Girard e vincere trofeo e prima piazza e allora io vi saluto Leonardo Tomei vi saluta da questo commento del tavolo televisivo vi da appuntamento naturalmente a domani con tutti gli eventi che vi abbiamo detto più volte vi ho detto io e insieme ad Antonello Guido in commento tecnico insieme a me per buona parte del tavolo televisivo vi do la buonanotte vi do l'appuntamento a domani e buonanotte e grazie per essere stati con noi ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.